Il mito dell'alta velocità riporta l'Abruzzo al centro del dibattito politico. Nel corso dell'ultima conferenza stampa a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte ha parlato di un piano di ammodernamento delle infrastrutture per rilanciare il paese, con l'intenzione di fare il doppio binario Pescara-Lecce e l'alta velocità Roma-Pescara. Ho parlato di un binario unico, che in questo momento c'è da pescare a Bari e a Lecce. Ho parlato di un completamento dell'alta velocità, che deve riguardare anche Venezia, come sapete, Milano-Venezia. C'è tanto da fare, Roma-Pescara, impensabile, che è una breve distanza, per non parlare della Sicilia. Ho accolto tale impegno con enorme soddisfazione, ha dichiarato il governatore Marco Marsilio. Manifestiamo la nostra immediata disponibilità ad offrire le nostre competenze tecniche e amministrative e soprattutto, conclude Marsilio, quella collaborazione istituzionale che ci permetterà di passare il più rapidamente possibile dai proclami ai fatti. Occorre specificare però che Conte, quando parla di alta velocità, non intende la ferrovia ad hoc su cui sfrecciano supertreni a 300 km orari, ma piuttosto l'alta velocità di rete, che si riferisce a un ammodernamento delle linee esistenti. Insomma, quanto già stabilito dal tavolo tecnico costituito da Abruzzo, Lazio, il Ministero delle Infrastrutture e Ferrovie dello Stato. Nelle prossime settimane il tavolo tecnico dovrebbe elaborare una proposta progettuale condivisa sull'intero tracciato. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi di percorrenza. Se il treno diretto da Pescara impiega quasi tre ore e mezza per arrivare a Roma, l'intenzione è quella di velocizzare il viaggio di un'ora. Questo dell'alta velocità a Roma-Pescara è stato argomento di propaganda su cui hanno puntato tutti i candidati durante la campagna elettorale che ha portato Marsilio alla presidenza della regione. In molti ricorderanno la scenetta di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista alla stazione di Pescara, meravigliati per i tempi di percorrenza. Siamo alla stazione di Pescara in questo momento e chiediamo un'informazione sul prossimo treno per Roma. Buongiorno. Buongiorno. Sfila analisi costi-benefici per poi ragionare sul cilindro dal quale tirare fuori i soldi necessari. Mentre per quanto riguarda la linea adriatica e il raddoppiamento del tratto Pescara-Lecce, qui si fa riferimento in realtà a una porzione della linea ferroviaria piuttosto circoscritta. Il lungo percorso in riva all'Adriatico, infatti, è già quasi tutto a doppio binario banalizzato, ovvero che permette la circolazione dei treni su entrambi i binari anche nella stessa direzione, a eccezione però del tratto tra Termoli e Lesina, per un totale di circa 33 chilometri. Un progetto antico, questo del raddoppiamento, che prevede anche lo spostamento della ferrovia a monte per evitare le interruzioni dovute a mareggiate e desondazioni, ma su cui RFI e le istituzioni locali non riescono a trovare un accordo. Insomma, nelle ben note dinamiche della politica, passare dai trionfali proclami di Palazzo Chigi ai fatti non sarà di certo una passeggiata ad alta velocità. Grazie.